La bilancia è un giorno che vi vede invece imbronciati un po' con tutto, arrabbiati, siete anche un po' stanchi, questo lo dobbiamo dire, nonostante una bellissima posizione del sole che transita in trigono nell'amico acquale, però accusate un po' lo stress portato da questo marte che vi costringe nella vita di tutti i giorni a tirare fuori davvero le umbe, perché ci sono tante cose che dovete fare e tante responsabilità che vi dovete accollare. Quindi questa è una giornata che vi vedrà un po' di cattivo umore, ma man mano che passeranno le ore le cose miglioreranno e la serata che dovrete dedicare comunque al riposo e alla vita casalinga vi vedrà già più sereni. Per quanto riguarda invece lo scorpione, questa è una...